La rosa è il giglio. La vita, la morte, il miracolo di Santa Rosalia. Prossimamente. Santa Rosalia visse intorno al 1100, ma quando divenne la santuzza e quanto c'è di vero e di leggenda nella guarigione della peste? Certo, abbiamo notizie di Santa Rosalia fin dal XII secolo e il culto della santa inizia in epoca remota. Però soltanto dopo la peste, dopo il ritrovamento delle reliquie, delle ossa su Monte Pellegrino, esplode questo culto a livello cittadino. Dalla tradizione viene fuori che Santa Rosalia, vista appunto alla corte di Muglielmo, proprio durante questa sua fanciullezza, prima adolescenza vissuta alla corte, avrà certamente visto qualche cosa all'interno appunto della vita del Palazzo Reale che l'avrà certamente tanto sconvolta, per cui... Se tu noti, ecco guarda, lì ci sono questi ex moto, sono tutti intorno. Vieni, ti faccio vedere. Ecco guarda, proprio, tutti intorno. Vieni, vieni, guarda. Regia di Pasquale Migliore Regia di Pasquale Migliore